Allora ciao a tutti, benvenuti sul canale, video in italiano di un soggetto molto bello della collezione URC che finalmente è stato affrontato, che è sempre la X o come fa questi modelli qua in genere, sì, è stato finalmente affrontato in modo corretto nonostante sia così un modello economico, lavorano molto molto bene perché questo soggetto in particolare è la Porsche Rally di Almeras 911 SC Almeras, la ESO molto famosa, troppo spesso viene confusa, vuoi per le allargature, per le carinature sulle ruote dei cerchi gotti, che erano i cerchi francesi specifici di questa macchina, fatti anche semplici ma fatti anche discretamente bene per fare i gotti o si andava sul 3D o c'era una roba vecchia della Renaissance che aveva fatto il truss kit per fare questo modello partendo da, credo dalle 934, però il dato di fatto di tutte le volte che si vede un modello di una Porsche Almeras di un 911 SC da Rally è che avendo le carenature simili a quelle della 934, un sacco di stronzi prendono la 934 e la fanno con la livrea dell'Almeras. Io stesso ci stavo cascando nel senso che è una di quelle cose che se uno non le sa, dici ma la macchina è quella, anche perché la presa d'aria davanti è quella, il look è quello 911, si, devo cambiare il ducktail, gli monto un ducktail, gli faccio le decas, gli monto i gotti e poi me la faccio ecco, invece no, perché quello che troppi non capiscono era che questa macchina in origine non aveva niente a che vedere con il body delle 934, la 934, la Jäger Meister, quella che ha fatto Tamien 1.12 era una Porsche Turbo da Corsa che in minor parte ha fatto anche qualcosina da Rally quando finiva nelle mani degli scappati di casa quindi non ha la storia dell'Almeras, non era la Porsche famosa che aveva fatto il Monte Carlo, che aveva fatto il tool de course questa Porsche qui, perché? Perché la differenza principale è che il body di partenza della macchina vera, sto parlando non era un turbo, le 934 erano basate sulle turbo di Porsche, quindi con i passaruota anteriori e posteriori molto più larghi della versione stadale, era un generico 911 SC la 911 SC, e io sono un pirlo, non finirò mai di dirmelo da solo, io ebbi modo di poterla comprare negli anni 90 costava 18 milioni, mi ricordo ancora, strausata, di un color prugna imbarazzante, orrenda da vedere però è una vettura che ad averla oggi in ordine vale, non dico come un appartamento, ma quasi, sono salite di prezzo in maniera mostruosa e io dissi di no perché la macchina era macchina vecchia, non mi interessava la 911 SC è stata la prima Porsche, il 3200 classico, la prima Porsche di massa, di produzione di massa veramente affidabile, veramente comune, alla portata di moltissime tasche, ripeto, se anche io potevo comprarla non era un oggetto, poi adesso sono degli untimer, sono 911 particolari, quindi sono tutta roba che va a salire mostruosamente di prezzo e costantemente lo farà, cioè non è una scala che si ferma, una scala che continua ad andare avanti non tanto per il mercato nostrano, ma per i mercati stranieri dove sono iper apprezzate primo da tutto il mercato tedesco, però ripeto, per fare l'Almeras, in troppi partivano dalla scatola o di Tamia o della Esci, arriva apposta anche credo dei taleri, del 934 RSR Turbo e la facevano con questa rigrea qui, quindi hai voglia fare le discussioni, ma è stretta, non è quella larga io anche di recente, anche con degli amici, abbiamo fatto delle discussioni del genere, niente, duri come poi tante volte le test sono proprio fatte di cemento armato e anche davanti all'evidenza ti dicono che hanno ragione loro, quindi a un certo punto uno dice fai quel cazzo che vuoi, farla sbagliata propongono anche di fare transkit per roba del genere, roba da vendere, quindi già lo vendi con l'errore sopra vabbè, però tante volte si vedono modelli fatti anche bene, anche con la finitura fatta giusta di questi modelli qua, belli con i colori staccati bene, non è facile fare il blu e il rosso con lo stacco così netto e preciso su linee bombate, ricurve con le rivettature, è facile fare casine, è facile fare coni di colore, poi la decal fa una scena incredibile sul Porsche Almera, quindi la macchina c'è, la macchina è bellissima, però ripeto bisogna farla partendo da un 911 SC, l'unica giusta che ci ingiro, non perché è mio amico, ne parlo sempre bene, ma perché è vero, è quella che ha fatto il grande Luca Cavicchi per Arena Modelli, loro le decal sole dell'Almera non le vendono, il modello va comprato come blocco in resina curbside che vendono loro, credo che sia un modello da oltre 200 euro, quindi è vero che va fatto, è vero che il risultato finale, poi se avete le mani come quelli di Luca, diventano dei modelli eccezionali, sono i modelli che vedete nelle fotografie, aprendo Google, se scrivete Arena Porsche 911 Almera, salta fuori il modello fatto da lui, ma lui è un mago come modellista a fare colorazioni, rifiniture, i lucidi, è incredibile, un ragazzo veramente eccezionale e anche un ottimo amico, invece il qualunque stronzo che prova a fare un modello del genere normalmente cosa combina? Combina il guaio perché ripeto, trova le decal, trova i gotti, trova i fanali da mettere davanti, i quattro fanali si recuperano, la fa e hai una 934 con la libera dell'Almera, scena o c'entra una mazza con il 911 SC che è in questione, quindi anziché buttare via tempo, soldi, incazzature, di roba che sbagliate, prendete un 911 serio, a limite prendete questa, se volete fare un lavoro fatto bene la prendete, la sverinciate completamente, con le decal i gotti ve li danno già loro e non sono neanche bruti perché i gotti fatti così, io quando li ho cercati sono impazzito, alla fine li ho trovati anche io, li ho pagati il doppio di questo modello qui, solo i gotti in resina di Renis tra l'altro, che non sono neanche particolarmente belli, sono più belli questi onestamente, fate lo strip down di un modello del genere, lo riverniciate, lo portate al livello di dettaglio di un modello fatto a mano da modellisti bravi e avete un modello corretto senza stare a prendere le troppe conversioni che sono state fatte in giro, anche pompate perché adesso è tutto bello, è tutto preciso, è tutto uh che figo, che figo, poi lo vai a vedere e al lato pratico il modello è sbagliato, quindi questo io l'ho voluta prendere apposta perché è una delle più belle secondo me della collezione, vuoi per i colori, vuoi per come è stata fatta, vuoi per le decalpe applicate in maniera eccellente, per me è assolutamente un must da avere questa qui, quindi io questa per me è imperdibile, voi fate quel cazzo che volete, se vi interessa compratela, sono già salite di prezzo perché non l'ho pagata 25 euro, questa l'ho pagata parecchio di più, però ripeto ci tenevo ad averla ed è ormai roba di un pochettino di tempo fa, quindi non è l'ultimissima della serie delle vrc, serie che tra l'altro sta finendo quindi tra un po' tutte queste cose qua diventeranno da collezione, non sarà un problema credo la reperibilità perché non ho fatto una marea di comunque di sti modelli qua, quello che cambierà sicuramente saranno i prezzi e le possibilità e la disponibilità di avere questi modelli qua, chi è appassionato dell'oggetto in genere li compra, se li tieni non ne apre neanche il blister come faccio io, se lo tieni lì e basta così, questo è quanto, per me come detto questa è la più bella della collezione della vrc, per me imperdibile e se la pensate così anche voi compratela, grazie e alla prossima